GF 2018, Baiedame tra le critiche, si punta la pistola in testa, è già polemica sono troppi i gesti ritenuti eccessivi di Baiedame, il popolo sul web è favorevole allespulsione. Cancelletto Baiedame è il concorrente della quindicesima edizione, attualmente in corso sul piccolo schermo, di uno dei reality show italiani più seguiti e discussi in rete Il giovane concorrente di colore sta deludendo tutti i telespettatori del Grande Fratello Nip 15 i quali, dopo essere venuti a conoscenza di quanto è accaduto recentemente nella casa, stanno appellando a gran voce sul web e sui sociali in merito allespulsione del ragazzo, scopriamo tutti i nuovi aggiornamenti Grande Fratello Nip 15, Baiedame dovrà essere espulso, la rivolta del pubblico. Baiedame si è dimostrato molto aggressivo e prepotente attraverso gli atteggiamenti assunti allinterno della casa più spiata di Italia Come abbiamo avuto modo di vedere, il ragazzo, nel corso della seconda settimana di convivenza con gli altri inquilini del reality, ha assunto un comportamento molto duro nei confronti della nuova arrivata, Aida Nizzar La concorrente spagnola, dunque, si ritrova a lottare sola contro tutti dal momento in cui ha confessato di aver vomitato in bagno e di non aver ripulito dove ha sporcato Questa confessione la messa in cattiva luce con i suoi compagni di gioco i quali, ormai da giorni, stanno escogitando ogni alternativa al fine di rendere complessa la ventura televisiva della donna Vogliamo Baiedame fuori dalla casa, Baiedame merita lespulsione, il grande fratello dovrebbe prendere provvedimenti per Baiedame, sono questi i commenti più rilevanti che si leggono in rete Quindi, i telespettatori sperano che la redazione del GFNIP prenda a seri provvedimenti al riguardo procedendo con la squalifica di Dame. Baiedame è pericoloso, commentato il gesto della pistola L'atteggiamento bullo del ragazzo è stato messo fortemente in discussione anche in seguito ad un gesto effettuato per gioco durante la permanenza in casa Baiedame ha interpretato un balletto con in mano una pistola, chiaramente si trattava di un oggetto giocattolo, che dapprima ha puntato alla propria testa e successivamente alla testa dei suoi compagni di avventura Tale gesto, secondo molti telespettatori, sarebbe dovuto essere censurato e non trasmesso in live in quanto, anche se si tratta di un'azione effettuata per gioco, vi sono molti minori che seguono la diretta del programma Si legge, infatti, Baiedame con la pistola alla tempia, anche se per gioco, è un'immagine molto dura da trasmettere in un contesto televisivo. Cancelletto Grande Fratello 2018 Cancelletto Barbara D'Urso Cancelletto Barbara D'Urso